Buongiorno a tutti voi, oggi martedì 27 marzo, oggi il mare è brutto, ieri era una bellissima tavola piatta e azzurra, oggi è burrascoso e nero. Mi sembra di pensare un po' ai nostri giorni, a volte sono belli, sereni, a volte sono tesi, drammatici, nervosi. Che facciamo in questi giorni? Ci buttiamo giù? Ma noi lo sappiamo che sotto il mare in burrasca, mi dicono, basta andare giù 6, 7 metri e troviamo anche lì una calma incredibile. Torniamo dentro di noi, tutti, lì troveremo il Signore, lì troverai con la fede, troverai un mondo di gioia, di pace e di serenità. Torna sotto e dentro di te, lì c'è il sole, perché sembra strano, il sole c'è, le nubi lo fanno un po' appiattire, lo fanno ecclissare, ma c'è il sole sopra le nuvole, c'è sempre, basta andare a pensarlo e a volerlo. Ciao, buona giornata a tutti, sì, buona.